viviamo in un periodo storico in cui il termine light almeno per quanto riguarda il segmento tech smartphone è veramente molto diverso rispetto a qualche anno fa l'abbiamo visto anche di recente con la recensione di s10 light che trovate proprio qui nel nostro canale anche oggi il racconto e la recensione completa di xiaomi mi 10 light questa trasformazione di questo termine continua il suo percorso scopriamo insieme i miei pensieri in merito a questo nuovo device targato xiaomi che sarà un sicuro campione di vendite e di popolarità nel mercato tech android materiali e touch and feel parto subito smentendomi il termine light in passato era affibbiato a quei terminali delle aziende senza troppe pretese se non quelle di far ricordare l'utente il nome degli smartphone high gand e top di gamma nel passato recente questa convinzione sa sempre più screditandosi con device light è il caso di questo mi 10 light che possono assolutamente dire la loro senza dover vivere nell'ombra dei fratelli più pompati questo se pensiamo alla scheda tecnica parlando di design infatti questi smartphone non riescono ancora a tenere il passo mostrando un'attenzione minore al trattamento dei materiali per tutti tranne che per minotto 10 light ma questa è un'altra storia che approfondiremo a breve questo xiaomi mi 10 light protagonista di questa recensione è infatti uno smartphone che non cerca di stupire per il suo design la qualità costruttiva è ottima non mi fraintendete il problema è che la sensazione poco premium è quella che vi accompagnerà nell'uso a partire dal noccio centrale a goccia passando per il mento inferiore che non fa nulla per passare inosservato inutile poi criticare la scelta del pannello che sembra essere appoggiato sopra la scocca e non come un tutt'uno con il corpo del device peccato perché a livello di impressione generale potrebbe frenare i potenziali clienti in fase di acquisto display lasciando da parte il reparto estetica importante ma sempre da tenere in seconda considerazione rispetto alle potenzialità vere e proprie di un device tech ecco l'analisi del display un pannello amoled da 6,57 pollici in risoluzione full hd non è presente refresh rate aumentato a 90 hertz fattore comunque che non contribuisce ad abbassare troppo l'ottima valutazione di questo display ottimi colori così come gli angoli di visione ottima scorrevolezza del pannello che è veramente un piacere da vedere ed utilizzare camera quest'anno xiaomi ha provato ma in realtà già dalla fine dello scorso anno con mi note 10 ad alzare la sticella della qualità fotografica dei suoi smartphone ecco questo mi 10 light non verrà ricordato per aver aiutato questo processo di miglioria fotografica gli scatti infatti che potrete tirare fuori da questo terminale sono da vera e propria fascia media di giorno la lente principale da 48 megapixel vi aiuterà a scattare foto che per uso social e di condivisione da smartphone non vi dispiaceranno di notte o comunque al calare delle luci nelle vostre ambientazioni i risultati saranno tutt'altro che positivi peccato perché il comparto camera è diventato sempre più terreno di lotta e forse avrei preferito qualche investimento extra in questo comparto rispetto ad altri da parte di xiaomi i due sensori da 2 megapixel per effetto macro e bokeh sono l'emblema di questa poca attenzione alla qualità pur di poter dire di aver quattro sensori come i competitors non che in stessa fascia di prezzo ci siano smartphone che scattino tanto meglio però qualcosa in più non avrebbe fatto male lato video non ci siamo stabilizzazione assente riprese che non mi convincono molto direi sufficienza ma non molto di più in generale per l'intero ambito fotografico anche grazie alla buona fotocamera anteriore che per assurdo mi è piaciuta di più di quella posteriore in relativo audio audio mono con singola uscita inferiore un vero peccato dato che anche in fascia media stanno iniziando a comparire smartphone e device con uscita doppia stereo vibrazione nella media non la peggiore che si possa trovare su uno smartphone processore ram e rom tutte le rinunce fatte in ambito camera devono aver permesso a xiaomi di investire in quest'area troviamo infatti il nuovissimo processore 765g dotato di connettività 5g a bordo di questo xiaomi mi 10 lite completano il quadro 6 gigabyte di ram e 128 gigabyte di rom esiste anche la variante da 64 attenzione non espandibile questo mix permette al mi 10 lite di essere una vera e propria scheggia lo abbiamo già detto la differenza con i top di gamma è sempre minima grazie ai nuovi processori di fascia media in questo caso è veramente difficile trovare differenze reali ed uso con il fratellone mi 10 tutte le applicazioni si muoveranno in maniera fluida e piacevole con sensazioni veramente piacevoli regalate all'utente senza dubbio all'area migliore dell'intero smartphone software a bordo android 10 con miui 11 in attesa di ricevere la nuova ed attesissima miui 12 ci troviamo davanti a un software conosciutissimo a che utilizzo sempre con piacere di volta in volta completo e ricco con tante opzioni e coerenza grafica nessuna novità e l'invito qui ad andare a recuperare le nostre vecchie review di smartphone dell'azienda cinese per vedere nel dettaglio tutte le varie aree software batteria 4160 mAh questo è il dato di batteria a bordo di questo smartphone xiaomi a differenza di altri device dell'azienda questo non mi ha lasciato con la bocca aperta l'analisi dell'autonomia sia chiaro si tratta di uno smartphone con il quale la giornata la si chiuderà sempre con facilità la seconda giornata però non è garantita come in altri device dotati di scheda tecnica simile non scalda mai però neanche sotto utilizzo intenso in attesa di vedere come verrà gestita l'autonomia con la nuova versione software in arrivo non mi sento comunque di bocciare questi dati prezzo questa la vera arma in più di xiaomi mi 10 lite i suoi rivali con scheda tecnica simile si piazzano street price al doppio del suo prezzo non offrendo però il doppio di migliorie generali è vero un motorola edge così come un lg velvet offrono prestazioni fotografiche migliori in generale se però non siete utilizzatori hard della fotocamera da smartphone ma semplici utenti normali che vogliono scattare le loro foto al mare o in famiglia questo device a 300 euro e non solo il best buy definitivo di questo 2020 nella sua fascia di prezzo ma anche uno dei migliori smartphone che si può comprare nell'intero panorama android anche alzando il proprio budget se molti erano rimasti contrariati dalle scelte di prezzo di xiaomi con la famiglia mi 10 ecco il device con il quale riappacificarsi